Si parla di nuova viabilità per la provincia e si parla di un'arteria importante, tre ponti sul Saline, c'è stata la consegna dei lavori alla ditta. Quali saranno i tempi e soprattutto come cambierà la viabilità? Intanto parliamo di un'arteria fondamentale per la provincia di Pescara, ma in particolare per una realtà dell'Abruzzo che concentra il massimo delle presenze tra Pescara, Monte Silvano, Città Sant'Angelo, Silvi, in una realtà che abbraccia tutta l'area Vestina. Un investimento che consiste in circa 16 milioni di euro provenienti dalla giunta dei Dominicis, amministrata come risorsa quindi appaltata dalla giunta Testa e oggi da me portata avanti fino a compiersi il risultato più evidente per la collettività, cioè noi puntiamo a fine 2017 a inaugurare anche il terzo ponte, quello che dalla Warner per intenderci va verso Città Sant'Angelo, quindi supera il Saline, verso l'ex area attrezzata per villaggio estivo e in quella realtà dovrebbe a questo punto essere inaugurato questo ponte in acciaio che è il più grande tra l'altro d'Abruzzo. Sarà appunto anche attraversato dalle macchine oltre che dalle bici e consentirà alla provincia di Pescara di ridare anche una funzionalità maggiore al sistema delle imprese che da tempo reclamano appunto gli intralci derivanti dal traffico pesante che più volte crea disagio anche e soprattutto la sera. Gli altri due punti sono quelli che guardano più Città Sant'Angelo e cioè quello che sfocerà dal lato dell'outlet di Città Sant'Angelo e ancora l'altro che va nella zona di Villa Carmine che è quello che più direttamente andremo a inaugurare sicuramente entro gennaio 2017 e nel mese di ottobre appunto poggeremo le travi, le prime travi che saranno quelle sulle quali appunto si realizzerà questo tratto di strada sul ponte. Grazie.